Amici del SoftLibre Open Source, benvenuti o bentornati in questa nuova video guida che vi spiega un trucco che forse molti di voi non conoscono che mi è stato richiesto anche a gran voce da diverse persone e che voglio condividere con voi. Qualche giorno fa ho realizzato una guida post-installazione dedicata a Ubuntu 22.04 LTS la nuova LTS di casa canonica che ci accompagnerà per i prossimi anni. Tra i vari punti presenti all'interno della guida vi consiglio di installare GDB per l'apertura dei file DEB per poter installare i pacchetti in formato DEB. Attualmente che cosa succede su Ubuntu 22.04 quando si fa clic su un qualsiasi pacchetto in formato DEB il comportamento di default è quello di aprire il gestore di archivi ma noi questo non lo vogliamo perché non ci serve a niente il gestore di archivi noi vogliamo fare il doppio clic e procedere direttamente all'installazione. In passato era semplice associare l'apertura e i pacchetti in formato DEB con GDB perché c'era una voce che era evidente quando andavamo a fare questa operazione in passato bastava fare apri con altra applicazione e qui trovavamo GDB e trovavamo la voce per settare il default con GDB. Come potete vedere questa voce adesso non è più presente perché? Perché è stata spostata, semplicemente è stata spostata quindi nulla di particolare. Hanno soltanto fatto questa scelta progettuale di spostare la voce in un altro menu e adesso vi faccio vedere come fare. Quindi selezioniamo un qualsiasi pacchetto in formato DEB clicchiamoci con il tasto destro, proprietà, apri con e applicazioni consigliate troveremo installatore di pacchetto GDB selezioniamolo e clicchiamo sopra imposta come predefinita. Una volta fatto, andando a fare il doppio clic sul pacchetto in formato DEB ci si aprirà il nostro carro GDB e quindi potremo procedere all'installazione del pacchetto in formato DEB. Semplice, rapido e un trucco che molti di voi non conoscevano e mi fa piacere condividere con voi e farvi scoprire queste piccole chicche nascoste, diciamo così. Gunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo, ci rivediamo in una prossima videoguida e ci riascoltiamo in una prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!